Diventare il leader di se stessi per non farsi decapitare. E questo è il motto che lancia il nuovo libro di Giovanni Floris, Decapitati, e che Confindustria raccoglie, ospitando il giornalista di Ballarò a Chieti in occasione della nascita di Abruzzo Moderno, l'associazione che offre spazio e opportunità ai giovani imprenditori, voluta dall'ex parlamentare, ora consigliere di amministrazione della RAI, Rodolfo De Laurentiis. A capo del progetto, Alessandra Rossi, ex presidente dei giovani di Confindustria dell'Aquila, che chiarisce subito la natura dell'associazione. Non si tratta di un movimento politico, ma di un laboratorio culturale, un contenitore di idee, un ponte tra politica e società. All'interno di Abruzzo Moderno, giovani imprenditori professionisti che guardano al futuro e credono nella crescita dell'imprenditoria abruzzese. Non casuale dunque la scelta di ospitare Giovanni Floris, che nel suo ultimo libro spiega come l'Italia sia soggetta ad una classe dirigente che non merita. Tuttavia, per Floris questa crisi ci restituirà un'Italia diversa, nella classe politica e nelle istituzioni. Sarà una situazione difficile che lascerà però spazio al merito, a chi saprà farsi avanti e avrà la capacità di diventare il leader di se stesso. Gli fa ecco la presidente di Abruzzo Moderno, Alessandra Rossi, secondo cui è necessario dare vita ad una leadership forte e creare una classe dirigente in grado di compiere scelte coraggiose. L'appuntamento è per venerdì 8 giugno alle ore 18 presso la Sala Rossa della Camera di Commercio di Chieti.